La centrale a Parco 5 di entrare in sede. Attenzione, Rissa San Vincenzo a Sanità. Parco 5 e 6, dirigersi su zona porto. Fermi, fermi voi due. Fermo, fermo, sbaro. Fermi, fermo, sbaro. Fermo, fermo. Ma che vuole? Cammina, tirati su. Lo spara, lo spara. Vieni avanti. Non l'assalto, non c'ho fatto niente. Eh sì, nocentino, boverello. Cammina. Ma chi sta pazzo? Dai, zitto, stai. Mettili giù. Giratevi adesso. Giratevi, forza. Ma io non c'entro niente. Forza, non c'entri niente, eh? E questo borsello di chi è? E' mio? Ah, dai, dai. Ti faccio vedere io se non lo sai. Forza. Ma io volete voi, non ho. Vieni qui, stai fermo. Ecco qua. Ah, che male. Ah, che male. Te l'avevo detto di buttarlo via. E tu piuttosto che ti sei fatto acchieppare come uno fesso. Sabrei che è colpa mia. Sì?